Previsioni meteo di martedì 2 luglio. Al nord aumento della nuvolosità a specie su Alpi e Prealpi con possibili rovesci. Nel pomeriggio tempo instabile anche sulle basse pianure Lombarde e Venete. Al centro e al sud sole in gran parte delle regioni tranne qualche rovescio occasionale sui rilievi abruzzesi. Venti deboli. Mari tendenzialmente calmi, mossi adriatico e ionio. Temperature in lievo aumento.